Il diritto di scelta della donna alla base di chi non condivide la proposta di legge di Fratelli d'Italia sulla sepoltura dei bambini mai nati ed è proprio su questo punto che si espressa anche la garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, rispondendo alla nostra domanda relativa al dibattito in corso su un tema estremamente delicato. Andiamo a considerare che già nell'ambito del diritto romano avevamo una capacità giuridica in capo alla nascitura quindi se già andiamo a considerare una capacità giuridica che il legislatore, e rientro nel dettato del legislatore del 42 abbiamo per il concepito, allora sostanzialmente se vi è un diritto in capo al concepito già di essere erede allora lo dobbiamo trasporre quando purtroppo vi è questa interruzione di gravidanza. ovviamente è un tema molto delicato che noi donne viviamo con un pathos ed è soggettivo ovviamente è soggettivo, però far sì che ognuno possa, non ci si è pensato sino ad oggi perché noi mamme quando attraversiamo e viviamo un momento del genere non abbiamo la lucidità nel dolore di riflettere quello che poi dopo sia dopo l'intervento. Ma in questo modo resta il diritto di scelta di sepoltura oppure no? Ma io devo dire su questo poi la legge si può sempre modificare, c'è un colloquio di proposta per quanto riguarda però se andiamo in modo crudo ad esaminare, perché bisogna esaminare in modo crudo, chi ha avuto realmente un aborto soltanto sa che comunque poi pensa al dopo, si pensa, soltanto chi ha vissuto un'esperienza del genere realmente può come donna comprendere se si pensa realmente dove andrà, ecco, diciamo smaltito in termine crudo ma nella realtà di oggi è così. Sembrerà un caso ma in concomitanza con le dichiarazioni rilasciate dalla garante arrivano dei chiarimenti da parte di Fratelli d'Italia che in una nota precisa la volontà di intervenire in materia funeraria per legittimare il diritto alla sepoltura dei bimbi mai nati. Tre spiega a Fratelli d'Italia le opzioni post-aborto sia esso volontario o spontaneo. La prima possibilità sarà quella di permettere alla madre o ai genitori che lo desiderino di seppellire il proprio bambino fornendo a loro scelta il nome da iscrivere sulla tomba e la data di morte. La seconda alternativa è quella che affida alla ASL il compito di seppellire il feto scegliendo di non dare alcuna informazione sul bambino per totale rispetto della privacy. La terza possibilità riguarda il rifiuto della sepoltura. Resta ancora aperto il dibattito sull'argomento visto che per ora c'è stato il rinvio in commissione.